Qua disti, di nuovo buongiorno, Vox Il nostro Valeri, praticamente dominatore della QX3 Anche in gara 1 ha dimostrato la sua superiorità Valeri, raccontaci tu perché... Quante sono? Sei riuscito ad arrivare secondo una volta? No Porca vacca, com'è sta cosa? Raccontaci ragazzi, hai visto una partenza o... La gestione è perfetta Si è partito bene, poi ho preso un po' di stampa e sono riuscito a mantenerlo Dopo alla fine un po' rallentato, però sono riuscito a vincere Avevamo visto comunque controllare sciolfi, sciolfi controllare te Una bella gara L'hai sentita parere su questa pista dove le botte sono tante I salti non sono tanto alti, ma veramente sembra... Una struttura Delle catapulte quando si atterra Per gara 2? Non venirò Valeri, sei un grande il nostro in bocca al lupo per gara 2 E un arrivederci al parco chiuso dopo gara 2 Grazie Valeri